www.mesmerism.info 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 Coni ste braccia, ce la facciamo adesso. Ripo, 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 non cercare quello, cerca la borsa, cose facili. 1, 2, 2, 3, 2. Vai Ale. 2, 3, 2. In occhio lì, in occhio. si fa liberi le braccia si fa liberi le braccia muovi le mani così dai sulle guardia vai lì stanza non ce l'ha fatta dai 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 non pensate ora sta l'ora per l'assorto Marco porco tu provino a morare uno, due, stai là vai tu con le mani dentro sulle braccia sulle braccia che stanno dai 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 così dai 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 sei dai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.